Sono IMAX, in missione per scoprire i tesori perduti del cinema. Nel mio laboratorio segreto ho scoperto un indizio sul luogo in cui si trovava una bobina di film dimenticata. Equipaggiato con il mio fidato kit, mi sono avventurato nel mondo, determinato a portare alla luce questa reliquia. La mia prima tappa mi ha portato in un vecchio teatro abbandonato, dove ho affrontato una banda di ladri d'arte. Con coraggio e astuzia ne è emersi vittorioso, stringendo in mano il prezioso Ril. Tornato nel mio laboratorio, ho proiettato il film, rivivendo la gloria del cinema passato e preparandomi per la mia prossima avventura.